ciao a tutti ragazzi a grande richiesta andiamo nuovamente sui cdc mi hanno chiesto di mettere a paragone kin guardiola e ho voluto aggiungere anche ricard e andiamo a vedere intanto partiamo al contrario rispetto ai soliti video e andiamo a vedere il prezzo prezzo minimo attuale di compra ora ci troviamo a martedì quindi è importante il giorno della settimana perché i prezzi hanno delle fluttuazioni che dipendono maggiormente dalla weekend league quindi sicuramente il venerdì il sabato troveremo dei prezzi un po più cari dell'eicone per poi scendere dalla domenica pomeriggio fino al mercoledì perché già comunque il giovedì i prezzi cominciano un po' a gonfiarsi in vista della weekend league andiamo a vedere i prezzi roykin 410k guardiola 646 rai card 858k riguardiamo che questo rai card è quello che si poteva riscattare con gli swap andiamo alle info generali tre stelle piede debole per i primi due quindi kin e guardiola 4 stelle piede debole per rai card e le stelle abilità sinceramente non ci interessano in quanto sono dei cdc l'altezza 180 per chi ne guardiola 187 per frank rai card ne va le statistiche interne dei giocatori più veloce più veloce tra i tre sembra essere guardiola anche se guardiola rai card a livello di velocità sono molto simili mentre kin è in qualche punto più lento devo dirvi con come parere mio personale kin ce l'ho avuto ce l'ho tuttora è un ottimo giocatore ogni tanto questa velocità 70 accelerazione 70 velocità scatto 73 contro determinati avversari si fa sentire in quanto io gioco con il 4 2 3 1 con i cc e non con i cdc quindi partono da una posizione leggermente più avanzata rispetto i cdc e quindi quando devo difendere devono recuperare posizione in alcuni casi questa situazione mi limita andiamo ai tiri che ci interessano anche questi relativamente in quanto se il cdc lo intendiamo proprio con la parola stessa cdc con la parola stessa cdc difficilmente arriverà al tiro allora abbiamo roe king 71 tiro generale 65 per guardiola 76 per rai card piazzamento sicuramente pecca guardiola che poi c'è da vedere in un cdc il piazzamento relativamente a un tiro che cosa voglia dire finalizzazione scarsissimo guardiola in finalizzazione potenza tiro sicuramente rai card ha un bel tiro dalla un bel tiro che poi vediamo dalla distanza 82 84 invece per roe king ogni tanto qualche bel tiro sinceramente mi è uscito fuori ma nulla di trascendentale tiro al volo rai card qualcosa ce l'hai altri due zero totale calci di rigore penso che nessuno dei tre possa andare a battere un calcio di rigore sui passaggi che è fondamentale per un cdc statistica generale abbiamo 85 88 83 guardiola sembra nettamente meglio sulla visione siamo molto simili tra king e guardiola un po' meno rai card sui cross guardiola è in grado di mettere un cross decente in mezzo forse anche rai card molto meno king su punizione penso che nessuno dei tre possa battere sui passaggi corti qui abbiamo grandi statistiche per tutti e tre anche relativamente ai passaggi lunghi un po' meno rai card sia come passaggi corti che passaggi lunghi e sull'effetto rai card è veramente zero sull'effetto io penso che questo effetto possa incidere su un passaggio magari a rientrare su un passaggio con il triangolo con il passaggio filtrante un po' particolare rai card penso che su questa statistica sia abbastanza indietro rispetto ai primi due sul dribbling sembriamo uguali sulla statistica generale 81 81 80 l'agilità è sicuramente maggiore in guardiola rispetto agli altri due questo equilibrio di rai card 54 mi fa pensare probabilmente ad un pezzo di legno andremo a vedere poi le altezze non mi ricordo se inizialmente le abbiamo viste però rai card è sicuramente più alto sia di king che di guardiola riflessi 92 per king 88 per rai card 86 per guardiola controllo palla guardiola sicuramente essendo un po' più brevilineo ha un bel controllo di palla ma comunque anche rai card 90 siamo lì anche king non ha un brutto controllo di palla sul dribbling naturalmente sono giocatori con cui non dobbiamo dribblare o meglio io non penserei mai di fare un dribbling con un cdc e rischiare di perdere palla in prossimità della mia area freddezza grande statistica per tutti e tre andiamo a difesa anche questo ci interessa particolarmente intercettazioni superiore king ma non di moltissimo rispetto a guardiola e rai card precisione di testa sicuramente qui eccelle rai card marcatura 90 per guardiola ed è una bella statistica 89 per rai card guardiola da allenatore sappiamo che è un grande tattico quindi anche da giocatore 90 come marcatura è una bella statistica contrasto in piedi 94 per king ma siamo lì con gli altri due scivolata praticamente pari per tutti per tutti e tre andiamo al fisico 89 king 83 guardiola 87 rai card l'elevazione è più alta in guardiola la resistenza è ottima per tutti e tre penso è anche quasi uguale la forza 86 per king un po meno per guardiola in effetti se ci ricordiamo e 90 per rai card se ci ricordiamo le caratteristiche io ho la fortuna di ricordarmi tutti e tre da giocatori tutti e tre tutte e tre le icone da calciatori reali e mi ricordo che comunque grande forza per roe king grande forza per rai card sicuramente guardiola era un centro campista un po più tecnico non non si metteva in mostra per la sua forza fisica sicuramente rispetto agli altri due l'aggressività di king fa paura perché 96 è una statistica incredibile questa aggressività spesso porta delle ammunizioni se non prendi la palla però spesso ti permette di intercettare palloni con grande vehemenza quando scegli il tempo giusto della scivolata o dell'intervento con il cerchio strattona e spinge avversario gli altri due sicuramente un po meno e torniamo allo stesso discorso su guardiola non viene ricordato come calciatore sicuramente per un giocatore ruba palloni o per un giocatore fisico per un cagnaccio di centro campo come lo intendiamo ma sicuramente con un giocatore un po più tecnico anche lì rai card sull'aggressività addirittura peggio di guardiola quindi detto questo andiamo a vedere soltanto l'altezza che forse poco fa non abbiamo visto 1.80 diciamo come altezza siamo simili rai card sembra un po più alto però in game perché probabilmente è la struttura del suo corpo che lo fa sembrare un po più alto un po più longilineo rispetto a kin e guardiola ripeto kin io ce l'ho già attualmente in squadra ha fatto due weekend di league le ha fatte più che bene ho preso sempre un sacco di gol come sempre però obiettivamente tra i tre io scarterei rai card perché molti mi dicono che sia molto rigido e quindi anche se ha un controllo palla eccellente non è una scima in agilità mentre gli altri due sicuramente sono da provare un po più agili sicuramente guardiola con quel più di velocità potrebbe eccellere rispetto a kin ma andremmo a perdere sicuramente in forza infatti nella carta base il fisico di kin è 89 nella carta base di guardiola il fisico è 83 ciao a tutti ragazzi